La Regione Puglia e la Guardia di Finanza abbraccettano il continuare a promuovere e rafforzare un'attività di contrasto agli illeciti in materia di controllo della spesa pubblica, con particolare riferimento al comparto della sanità. È stata sottoscritta la proroga della Convenzione proprio in materia di controllo della spesa sanitaria. A siglare l'accordo il Vice Presidente della Regione Puglia, Antonio Nunziante, e il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, il Generale di Divisione, Vito Augelli. Il rinnovo della proroga, si legge in una nota del sito istituzionale, non solo conferma la volontà della Regione Puglia e del Comando Regionale della Guardia di Finanza di contrastare gli illeciti e la corruzione nella sanità, ma conferma anche il reciproco apprezzamento per un'attività di controllo proficua e fruttuosa. Nel corso dell'anno 2017, infatti, fa sapere la Regione, la Convenzione ha già consentito di accertare i frodi in materia di spesa sanitaria per circa di 10 milioni di euro e di segnalare un danno erariale pari a 15,5 milioni di euro.